Grazie Presidente. Inizio dalle questioni, chiamiamole fuori sacco, che sono entrate all'interno del decreto e sono estremamente settoriali. Parlo del latte, delle conseguenze, chiamiamole così, delle calamità naturali che ci sono state sui singoli territori e delle concessioni balneari. Cito questi tre settori principalmente per dire che non c'è niente all'interno di questo decreto che possa ritenersi strutturale per risolvere queste tre situazioni. Sicuramente conosciamo bene la questione del latte che va avanti ormai da troppo tempo e dove continui interventi solo ed esclusivamente di sostentamento non risolveranno sicuramente il problema. Decreto riguarda gli enti locali prevalentemente e noi crediamo che l'obiettivo del Parigi di bilancio sia un obiettivo virtuoso e positivo per tutti, sia un vincolo assolutamente necessario. Crediamo altresì che la ragione dello Stato abbia fatto il proprio lavoro e continui a farlo, anche se alcune interpretazioni di alcuni casi ci lasciano alquanto perplessi. Ma la riflessione che vogliamo fare rispetto al Parigi di bilancio è il fatto che se noi ci poniamo come obiettivo quello del Parigi di bilancio per gli enti locali e riteniamo quell'obiettivo ineludibile, ma soprattutto un criterio di virtuosità, a criterio di virtuosità deve corrispondere anche una premialità. Noi continuiamo a fare provvedimenti sugli enti locali, ormai da troppi anni e da troppo tempo, che limitano la fase sanzionatoria. Cioè noi cerchiamo di aggiustare, come abbiamo fatto anche questa volta all'interno della Commissione bilancio, i provvedimenti perché diventino il meno peggio. Non perché siano positivi per gli enti locali, ma perché diventino il meno peggio. È una continua rincorsa alla difesa dagli attacchi di alcuni provvedimenti, alla difesa dell'autonomia e dei territori. Una continua rincorsa che va avanti ormai da troppo tempo. Ed è una situazione, se parlate con i vostri amministratori, lo dico alla maggioranza, se parlate con i vostri amministratori locali, credo vi diranno le stesse identiche cose che dicono a noi. E noi in questo provvedimento facciamo una cosa che, se ci pensate, è alquanto allucinante. Noi togliamo le sanzioni a coloro i quali non sono riusciti a rispettare i vincoli che la legislazione nazionale gli aveva imposto e lo facciamo perché riteniamo quei vincoli troppo restrittivi, tanto che i risultati hanno dimostrato proprio questo, che le denunce a suo tempo erano denunce assolutamente esatte e certificate ora dai risultati, ma noi togliamo le sanzioni per coloro i quali non sono riusciti a rispettare quei vincoli. Altresì, noi non diciamo quelli che invece hanno rispettato i vincoli ed hanno fatto un'ottima gestione, una gestione virtuosa, una gestione del rispetto del denaro pubblico veramente oculata, noi non gli diciamo bravi, vi premiamo. Cioè capite a che punto siamo arrivati. Siamo arrivati al punto da togliere sanzioni per obiettivi che è impossibile rispettare, ma non diamo una mano a coloro i quali non rappresentiamo e non premiamo coloro i quali invece sono stati bravi a gestire la propria amministrazione comunale. E' una continua rincorsa a limitare l'attacco del centralismo. E qua l'appello lo faccio ai tanti autonomisti, credo che ce ne siano tanti all'interno del Partito Democratico, anche e soprattutto per l'esperienza che hanno fatto sui territori, magari da amministratore locale e da amministratore comunale. E' un esempio su tutti. E' quello che è entrato all'interno del provvedimento che riguarda la Regione Sicilia o quello già citato da qualcun altro che ha rischiato di entrare, che riguardava il trasporto pubblico locale della Regione Campania. Non è così che possiamo legiferare. Non è così che possiamo dare vigore e rappresentanza agli amministratori che sono realmente responsabili. Voi giustificando un provvedimento per la Regione Sicilia e trovate una giustificazione di un accordo che appare significativo e anche giustificato. Ma vi dimenticate il Trisica, una Regione che perde 5 miliardi di euro all'anno per una mala gestione, un'evidente mala gestione al di là del colore politico. E questa evidente mala gestione viene compensata tutti gli anni da quelli che invece sono bravi, al di là del colore politico. E questa è una situazione che non può più stare in piedi. E' evidente, altresì, che la riforma del Rio non ha funzionato, che la Corte dei Conti aveva ragione, perché qua ci sono ancora dei soldi per le città metropolitane, ancora dei soldi per le province. E se sommiamo i finanziamenti che sono stati dati post-riforma, ci accorgiamo che la spesa è molto più elevata di quella che era nella gestione delle province a suo tempo. Sindaci che si trovano realmente in difficoltà a rispondere a un, e questo lo dico, ripeto, al di là del colore politico, a rispondere al bisogno sociale della propria cittadinanza, cittadinanza in profonda crisi per la crisi economica occupazionale che ha bisogno e che spesso e volentieri solo per dignità non bussa i servizi sociali del Comune, ma i quali non possono rispondere a queste esigenze, perché non ne hanno né le risorse e nemmeno le capacità strutturali che purtroppo la legislazione nazionale gli ha tolto. E siamo di fronte dei rischi sul quale vi invito veramente a riflettere. Il progetto di legge di cancellazione dei Comuni sotto i 10.000 abitanti. Ma cosa stiamo facendo? Cosa state facendo? Cosa state proponendo? Parlate con i vostri amministratori rispetto a queste cose. Parlate con tutti i consiglieri comunali, dei piccoli o dei grandi o dei medi comuni, che fanno solo ed esclusivamente della propria responsabilità civica e del proprio impegno civico un'opera di volontariato piena e degna di onore, che dovremmo assolutamente cercare di valorizzare. Fusioni che avvengono solo ed esclusivamente perché si favorisce la flessibilità della gestione del bilancio, ma ne si cancella l'identità, l'autonomia, la struttura e a volte anche i servizi che vengono dati all'interno dei singoli territori. Ed una confusione normativa totale. Ogni sei mesi, dopo l'apertura, a metà dell'anno, tutte le volte noi legiferiamo dicendo agli enti locali guardate che alla fine dell'anno dovrete arrivare qua. Gli togliamo anche la capacità di programmazione. Una riflessione va fatta sia sui dipendenti pubblici rispetto al fatto che non è possibile che li trattiamo allo stesso modo. Ci sono dipendenti pubblici che non danno una mano agli amministratori locali, che non sono una risorsa per i servizi ai cittadini e bisogna avere la possibilità che coloro i quali non si impegnano e non lavorano degnamente possano essere penalizzati. Altresì, però, non possiamo bloccare un comune perché non può prendere un dipendente comunale e non possiamo tagliare il servizio a una comunità perché non è in grado di assumere un dipendente comunale. Lo citava qualche amministratore locale prima di me. Per cui siamo di fronte a tutto questo. Aggiungo l'operazione dell'elezione di secondo livello delle province. Guardate che è una pazzia. Se voi mettete insieme questa roba qua che già c'è già, con la cancellazione dei comuni sotto i 10.000 abitanti, il rischio è quello che finisca il dibattito democratico all'interno delle singole comunità. E quando finisce il dibattito all'interno delle singole comunità? Le comunità non crescono più. Non crescono più. È un dovere della politica anche quello di tutelare il dibattito e di continuare a far crescere le singole comunità. E comunque andrà il referendum costituzionale. È ovvio che noi siamo per il no. Perché quello, finisco, Presidente, ho concluso, perché quel referendum è l'ultimo tassello alla cancellazione dell'autonomia dei territori. E noi siamo profondamente per il no. Ma comunque andrà il risultato del quel referendum. Ci sarà da riprendere in mano tutta la partita degli enti locali, della struttura dell'autonomia, a livello istituzionale, a livello elettivo, anche a livello strategico. E quando riprenderemo in mano quella situazione, vi chiedo e vi chiediamo solo ed esclusivamente di ascoltare i vostri sindaci e i vostri amministratori locali. Grazie.